Quando vuoi fare la pizza e la giulina, questa parte è lì. Se vuoi tagli tutto, le carote, le zucchine, le patate, la cipolla, la banana, tutto insieme, se vuoi metti un po' di carne, metti i dito, cominci a tagliarlo così si taglia pure i dito, fino a fino a quella del bristrano. È bella, piccola e facile usare. Invece quell'altra qua, guarda che ti fa, Mustafa, questa è bella. Sì, sì, perché quella è matematica, signor. Mettete dentro la patata e giri. Quando arrivi, fermi qua. Lì va questo manico, lì va anche il ferro, è che il manico qui e il ferro lì. Svidare la patata, non tirare, devi svidare. Quando vuoi fare fritta, fanno fritta nell'olio. Però se non vuoi fare fritta, fanno il forno col pollo. È che il pollo è africano. Fanno il pollo con la patata al forno qua. Questo è un pollo melanesi, bianco. Qui si mette carni, salsiccia. Sono in maniera di piena, maniera di patata col buco per dimagrire. Se vuoi dimagrire, perché se mangi di meno, è che la patata per dimagrire. Se no prendi la carota, se questa è la carota qua, e metti dentro la patata. Quando metti la carota dentro la patata, così fanno carota e patata insieme. Con il pollo, al forno, quando c'è il pollo a casa, è che il pollo è la carota e patata attorno. Se non c'è il pollo, c'è il cane, è che il cane con patata. Questa è il numero due che sta dentro questo, perché tre cose. Una è questa. Questa è il numero due per fare il limone. Piccolo. Questa metti dentro il limone, qua giri, fino a che andi fino al fondo qua. Ti serve, apri qua. Premi. Tappo o metti nel frigo? Dopo cinque anni, se ti serve, apri il tappo, premi. Ecco qua il pesce qua. Non perché cinquant'anni. No, cinquant'anni, cinquanta troppo. Cinquant'anni va bene. Questa è il numero tre. Stanno tutti e tre insieme qua dentro. Metti dentro e giri qua. Il dito metti dentro qua, giri, così si taglia tutti i cedrioni. Tutti sono dentro quel pacchetto? Sanno tutti sì, tutti insieme qua. Uno, due, tre. C'è anche il numero di telefono, l'assistenza. Io mando a mia sociale a casa tua. Non ci credo. Ma come no? Queste cinque... Non ci credo. Mi dai uno, eh. Quanto è? Chiudo l'occhio, cammino sopra l'accaro. Com'era il pesce? Ecco qua, ti fai il giulieno in salata. Guarda io, guarda, biondo come te, maniato l'accaro e guarda come ti ritriate un bianco. Se vuoi fare pure zucchina, quando vuoi fare pasta, quando vuoi fare l'insalata, quando vuoi fare la pizza, là. Ciao. Ciao, grazie. Se vuoi togli tutto, le carote, zucchina, la patata, per fare il ministerone, là. Se non c'è niente da fare, metti dentro il shampoo. No, no, no. Che polla di sapore. È freddo. Ma in Italy non è roba cinese, ci pura... Qualche cinese qua, speriamo di non. Costa cinque euro perché tutta roba robata il Vaticano. E' un po' buono. E' un po' buono. Sì, sì, la roba del Vaticano è un po' buono. Invece quella qui per fare la patata, questa qui, per fare la patata, zucchine, carota, cipolla, banana. Però quando fa dentro la banana qua, questa non è la banana, questa. Zucchina. No, guarda che parte questa. E guardi, quando fa dentro, girando, metti dentro e giri. Esce dall'altra parte, lì fa questa, lì fa quello, puoi svidare la patata, non tirare, devi svidare. Qui ti metti la carne per fare bene. Se no metti vetro qua, vetro là, vedi la stella. Qui se fanno fritta dorata con acqua, farina, pastella, tingo in pastella, butti in padella, buono. Se vuoi fare pure gli occhi, avvitarla qua, prendi il cortello, tagliare qua, facciamo gli occhi, ecco gli occhetti là. Quella o fa fritta, o fa lessa, o buttiamo in essa, fai quello che vuoi. Stanno tutti e tre insieme qua, una che fa riccioli, una che fa succo di limone, però devi tagliare in pezzo là, e metti dentro e giri. Quando ti serve il limone, apri il tappo, premi e esce il succo. C'è là il cagnolino, e che il cane fa il cane e il limone là, se no metti il tappo, metti nel frigo. E il numero tre non lo so che fa, stanno dentro, tutti insieme. Ah sì, l'altra quella per fare la patata così, ecco la patata, zucchina, cedrioli, così. Basta girare qua. Se vuoi fare decorazione, prendo una qua, una là per fare decorazione, quando finisci di svitarla. Se vuoi pulire le orecchie, metti dentro, giri. E stanno là dentro, tutti e tre, cinque euro.